Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Cortili Aperti nasce quattro anni fa quando l'Associazione di Mure Storiche Italiane volle incontrarci perché aveva parole loro, aveva visto le politiche di valorizzazione del centro antico messe in atto dall'amministrazione e stava valutando la possibilità di inserire dopo vent'anni, oltre che Lecce, anche Bitonto come tappa di Cortili Aperti. Cortili Aperti io la conoscevo perché avevo avuto la fortuna di vederla a Lecce e Bitonto straordinariamente ha risposto con un'apertura di quasi 60 palazzi tra pubblici e privati, quindi molto più di quelli di Lecce e soprattutto con una innovazione rispetto al capoluogo leccese. Abbiamo coinvolto come guide turistiche 600 studenti delle scuole superiori che alla fine di questo percorso di formazione prima e poi di guida per questi due giorni cortili aperti dopo ricevono un attestato di sentinelle della bellezza, quindi quasi a sottolineare che questi ragazzi resteranno promotori presso i loro coetani della necessità di tutelare, conservare e salvaguardare il patrimonio storico della città. Che si amassimo un po' di più questa città e se ci sforzassimo un po' tutti quanti di promuoverla e di crearne diciamo uno spirito di conservazione anche tra le persone con le quali ci relazioniamo sicuramente avremo tutti un destino migliore soprattutto per quelli che verranno dopo di noi. Quest'anno è la quinta edizione di questa manifestazione nazionale che in Puglia si tiene così corposa solo a Lecce e a Bitonto, a Bitonto appunto da cinque anni. Ci sono oltre 600 ciceroni studenti preparati da inizio di questo anno scolastico per raccontare la storia, l'arte, l'architettura di oltre 50 dimore storiche ovviamente artistiche che si aprono ai visitatori, ai cittadini ma anche ai turisti. Una di queste è Villa Sios o Torre di Cesare che oggi è qui aperta dopo lavori di restauro, di ristrutturazione e di riadattamento di questi spazi seguiti da questa amministrazione e che oggi poi inaugura una nuova casa del bambino, una struttura pensata proprio per i più piccoli dove viene ricreata una città in miniatura dove i piccoli possono imparare ad essere i cittadini di domani, c'è una banca, c'è l'ufficio postale, c'è un teatro, ci sono delle aree gioco, una sorta di educazione civica giocata e quindi ci è sembrato utile mettere questa inaugurazione all'interno di questa manifestazione che spalanca le porte, gli atri e i cortili di questi palazzi. Visitate Bitonto non solo per cortili aperti, anche per cortili aperti ma ogni giorno, soprattutto d'estate, la città è ricca di eventi, è ricca di manifestazioni culturali, è ricca di ristoranti, è ricca di B&B, insomma una città veramente aperta a tutti dal punto di vista culturale e turistico, quindi venite a Bitonto.